Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Icaro Tg, i titoli principali dell'edizione di oggi. Per la Feder Consumatori un caso emblematico di giustizia che non funziona, ma dopo la prescrizione resta ancora aperta la strada dei risarcimenti per le cause civili contro l'attacker. A dieci giorni dallo spostamento, gli ambulanti del mercato coperto di Rimini destinati a piazzale Gramsci vivono l'attesa tra preoccupazione ma anche speranze di nuove opportunità. Nessuna ombra per ora sul My Special Car Show, il salone dell'auto sportiva organizzato a Rimini dagli stessi organizzatori del Motor Show di Bologna che ha annunciato il clamoroso stop. Quattro mostre dedicate alla moda. Comune e Università di Rimini presentano la rassegna Rimini risvolti dell'abito. L'ennesimo esempio di una giustizia che non funziona. Così la Feder Consumatori di Rimini commenta la prescrizione per il caso Tucker, sancita nei giorni scorsi dalla Cassazione per le centinaia di vittime, resta però aperta la strada dei risarcimenti. C'è voluto qualche giorno per digerire l'amaro epilogo ma oggi la Feder Consumatori di Rimini commenta in una nota l'ultimo capitolo del processo penale riguardante il caso Tucker, con la prescrizione sancita lo scorso 3 ottobre dalla Corte di Cassazione. Non sono bastati 11 anni per definire la colpevolezza o meno di Mirko Eusebi e Ivana Ferrara. L'ennesimo caso di malfunzionamento della giustizia in Italia, scrive l'associazione che ha seguito centinaia di vittime riminesi, che ha permesso alla difesa degli imputati di sfruttare la lentezza dei procedimenti per ottenere l'annullamento delle condanne penali per ragioni di tipo procedurale e non di merito. In appello i coniugi Eusebi erano stati condannati rispettivamente a 6 anni lui e a 5 anni e 7 mesi lei per associazione a delinquere. Unica nota positiva restano aperte le porte dei risarcimento. La sentenza di prescrizione, spiega la Feder Consumatori, non pregiudica infatti i diritti delle centinaia di persone costituite si parte civile al risarcimento dei danni sia morali che materiali. La parte della sentenza penale che ha stabilito questo diritto non è stata annullata dalla Cassazione, che anzi l'ha ribadita. Già in primo grado il tribunale di Rimini aveva disposto una provvisionale di 1.054 euro, demandando poi in sede civile la definizione del risarcimento complessivo. Solo nel riminese furono circa 800 le persone coinvolte e in tutta Italia si stima che vennero venduti circa 14.000 dispositivi al prezzo di 15 milioni delle vecchie lire per un giro d'affari di circa 200 miliardi. Venerdì nella nostra trasmissione Tempo Reale in diretta dalle 9.15 per discutere del caso Taker interverrà il presidente della Feder Consumatore di Rimini Andrea Bascucci. Un 48enne riminese è stato portato in gravi condizioni all'ospedale in fermi dopo essersi schiantato col suo scooter contro un palo della segnaletica è successo poco dopo le 13 su via Coriano all'altezza della rotatoria del Gross. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, il 48enne ha sbattuto violentemente il capo mentre lo scooter è finito diversi metri più in là. La giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto esecutivo per il completamento del collegamento di via Sozzi con via Sacramora per un tratto di 350 metri. Il nuovo tronco unirà la rotatoria di via Sozzi all'altezza del cimitero con l'incrocio tra via Sacramora e via 25 Marzo dove ci sarà una nuova rotatoria completando così il nuovo assetto della viabilità dell'area di Rimini Nord. L'importo del progetto ammonta 1.710.000 euro di cui 893.000 per i lavori e 819.000 per espropri imprevisti e l'eliminazione delle interferenze con i sottoservizi. Poiché i lavori interessano l'area del cimitero inizieranno dopo le festività dei morti e avranno una durata di 10-12 mesi. È previsto invece per sabato 19 ottobre il trasferimento di parte del mercato ambulante del centro di Rimini, un trasloco necessario per i lavori di ristrutturazione al Teatro Galli che vede coinvolti in due fasi una settantina di banchi, quelli lungo i muri perimetrali del teatro. I lavori dovrebbero durare circa due anni, sono attese per lunedì 21 invece le impalcature e c'è naturalmente un po' di preoccupazione tra gli ambulanti interessati soprattutto per il rischio di perdere clienti, ma c'è anche chi pensa alle possibilità che potrebbero aprirsi appunto lavorando a fianco del mercato coperto. Pochi giorni dallo spostamento c'è preoccupazione da parte sua, anche dai suoi colleghi per questa nuova situazione? Chiaramente la preoccupazione c'è perché si va verso una situazione nuova e quindi quando si lascia una strada che si conosce c'è sempre una parte di preoccupazione. Certo si cercherà di vedere anche le possibilità di sfruttare, le possibilità che dà questa nuova area in special modo di fare connubio, di fare un lavoro di insieme con il mercato San Francesco e anche tutti i negozianti che ci sono già lì nella zona. Siamo preoccupati perché comunque dobbiamo ricrearci tutta la clientela, però speriamo nella spinta del mercato coperto che ci porti un po' di gente. Quando ci si sposta comunque in ogni caso una perdita sia sempre, sia della clientela che della qualità anche del mercato, purtroppo il comune ha fatto questa scelta e noi alla fine ne paghiamo le conseguenze. Qui ormai, tanti anni che siamo qui, abbiamo una tanta clientela che oggi come oggi, io là non so perché è un enigma secondo il mio punto di vista. La gente sa che il mercato è qui, ci vorrà del tempo perché si abituano di là, però i primi tempi saranno momenti duri per noi e il comune non è che ci è venuto incontro, anzi per la pubblicità che abbiamo fatto abbiamo dovuto anche pagare. Non sappiamo cosa ci capiterà, se chiuderemo, se la gente ci segue, perché qui il passaggio c'è là. Ma no, preoccupati direi di no, no, speriamo vada tutto bene, dai che la gente passi anche da quella parte, di là insomma dai. Il nostro mercato era qua, purtroppo gli eventi hanno voluto questa cosa e dobbiamo accettarla di conseguenza. State avvisando anche i vostri clienti? Certo, sì. Stiamo avvisando, alcuni hanno preso bene la cosa, molte persone vengono da là, addirittura hanno detto così qua non veniamo più. Molti sono contenti perché magari arrivano con l'autobus in questo piccolo parcheggio vicino la chiesa, molti però mi si allunga la strada, molti sono dai, come tutte le cose dai, sono molte vengono prese bene e molte cose no. Parliamo di politica. È bastato un giorno dopo l'ufficializzazione delle candidature per la segreteria provinciale del PD, appunto in sostituzione di Emma Petitti, eletto deputato, per accendere il dibattito. I candidati sono Magrini, ex assessore provinciale Russo Manno per la corrente Renziana. È proprio la scelta del presidente della provincia di Rimini Vitali di togliere le deleghe a Magrini, al quale è stato anche rinfacciato di avere comunicato la sua scelta, prima la segreteria che all'ente dove lavorava ha portato alla risposta dello stesso Magrini che parla di una polemica politica perché lui dice ha rispettato le regole, citando anche il caso dell'attuale sindaco di Rimini Andrea Gnassi che all'epoca appunto era rimasto assessore provinciale anche dopo essere stato eletto segretario provinciale sempre del PD. Il sindaco Gnassi replica lo statuto nel 2007 dice era differente e tra l'altro è rimasto in provincia proprio in accordo con la loro presidente della provincia per completare alcuni progetti che erano rimasti ancora aperti. E dal sindaco Gnassi anche un lungo intervento in cui invita appunto a lasciare da parte il discorso delle correnti politiche che rischia di non essere capito dai cittadini e rischia invece di incartare il partito. L'assemblea, il congresso provinciale appunto con l'elezione del nuovo segretario è previsto per il 4 novembre. Le piogge dei giorni scorsi hanno provocato infiltrazioni in una parte della scuola elementare della Pasqua a San Bartolo, frazione di Sant'Arcangelo. Il comune ha predisposto un intervento urgente di impermeabilizzazione della copertura che verrà completato nell'arco di qualche giorno. Da oggi a lunedì circa 100 alunni della scuola saranno trasferiti alla scuola Pascucci nel centro cittadino con lezioni pomeridiane dalle 14 alle 18.30. Per gli alunni l'amministrazione comunale ha predisposto un apposito servizio di trasporto. Scadono il 15 ottobre le iscrizioni per il nuovo anno accademico dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli di Rimini. Tra le proposte una laurea triennale, due specialistiche è la scuola di teologia pastorale. Una laurea triennale in scienze religiose, due specialistiche, una pedagogico-didattica dedicata ai futuri insegnanti di religione e agli educatori, l'altra in arte sacra e turismo religioso, pensata anche come risposta alla vocazione all'accoglienza del territorio. Ampia e ricca la proposta dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli di Rimini, polo di formazione che dal 2006 è riconosciuto a livello accademico. Tra gli studenti giovani neodiplomati, ma anche tanti lavoratori con il desiderio di approfondire. L'85% dei nostri studenti sono studenti lavoratori, sono persone che hanno già magari un'attività professionale, sono mamme, papà di famiglia, che riescono comunque a mediare le loro esigenze di lavoro, di impegno familiare, anche ecclesiale, con anche l'esigenza di una formazione sempre più accurata e qualificata sotto il profilo teologico, spirituale e pastorale. Una formazione a diversi livelli che si configura anche come percorso di studi con precisi sbocchi lavorativi poste specialistica. Da una parte insegnanti ed educatori, dall'altra guide turistiche ed esperti d'arte sacra. Anche se su questo versante sarebbe necessario un maggiore interesse da parte delle istituzioni locali ancora poco attente. L'attenzione è stata piuttosto scarsa, modestissima rispetto alle reali potenzialità. E quindi questo nostro investimento in questa scuola vuole essere proprio anche un servizio non solo alla chiesa, ma al territorio, alla città, anche direi alle diocesi della Romagna in senso più ampio, affinché davvero possa essere valorizzata l'arte sacra come fonte non solo di recupero dei fondamenti teologici, spirituali, ma anche come grande opportunità di sviluppo e di crescita sotto il profilo umano, civile ed economico del nostro territorio. Ha suscitato grande clamore la notizia dell'annullamento dell'edizione 2013 del Motor Show a Bologna per l'assenza delle case automobilistiche alla storica manifestazione motoristica. Il My Special Car Show, salone dell'auto speciale sportiva che si svolge da 11 anni in primavera a Rimini, è legato agli stessi organizzatori del Motor Show, la LG Events, ma al momento non c'è nessun dubbio sulla prossima edizione. A Rimini Fiera non risulta nessun cambiamento da parte degli organizzatori e dallo stesso My Special Car fanno sapere che si sta normalmente lavorando all'edizione 2014. Siamo alle notizie di tutto in 100 secondi. Un ventenne albanese è stato arrestato nella notte dai carabinieri per furto. Quando è stato fermato dai militari non si era ancora disfatto dell'auto, della tv e dell'abbigliamento rubati poche ore prima in un'abitazione a Viserba Monte. L'arresto rientra in un controllo straordinario nell'entroterra di Sant'Arcangelo e Poggio Berni. Ottanta le persone, 45 i mezzi, 6 i negozi controllati. Tre denunciati, un 23enne sorpreso alla guida senza aver mai preso la patente e un trentenne di San Marino che in auto aveva un coltello a serramanico. Maurizio Focchi, già presidente di Confindustria Rimini per due mandati, è stato eletto ieri all'unanimità vicepresidente regionale dell'Associazione degli Industriali. La giunta comunale di Rimini ha approvato i criteri per l'assegnazione dei rimborsi per le bollette dell'acqua del 2011 e 2012. Il fondo a disposizione è di oltre 114 mila euro. Le somme saranno assegnate attraverso un bando e destinate a nuclei a basso reddito e famiglie numerose. Dopo la pausa estiva riapre Sepotessi, lo sportello in corso da Augusto a Rimini, nato per aiutare i neomaggiorenni senza una famiglia. Nei primi sei mesi sono stati seguiti 47 ragazzi. Tra le principali richieste, l'aiuto per cercare lavoro e scrivere un curriculum e quello per il rinnovo dei documenti. Novità di quest'anno, il servizio di biblioteca. Sono 26 le vie riminesi dedicate a Federico Fellini, soprattutto le traverse del lungomare, la cui denominazione è cambiata qualche anno fa per scelta del comune. A Rimini però il cognome è solo 963esimo per frequenza. Nel ventennale della scomparsa del maestro, Enzo Caffarelli, esperto di onomastica, ha analizzato pagine bianche e pagine gialle alla ricerca di legami tra Rimini e il suo insigne con Cittadino. Caffarelli domattina sarà ospite della nostra trasmissione Tempo Reale. Parliamo di una rassegna dedicata alla moda. Il titolo è Rimini, i risvolti dell'abito e le esposizioni, idealmente cucite tra loro, si terranno negli spazi espositivi dei musei comunali. Il Museo della città è il FAR, Galleria di arte moderna e contemporanea. Questa mattina la presentazione e poi venerdì ci sarà l'inaugurazione. La mostra paragona la moda italiana e la moda giapponese nel decennio fondamentale di costituzione della moda moderna che sono gli anni 80 e 90. Quindi gli argomenti sono dei concetti sui quali noi confrontiamo queste due estetiche. Poi abbiamo trovato un punto in comune nel grande designer Romeo Gigli, che è un po' un punto d'incontro tra Oriente e Occidente, a cui abbiamo dedicato una stanza. Gli abiti sono tutti dell'archivio Mazzini, che è un grandissimo, lo possiamo dire che è un museo della moda italiana sostanzialmente. Abbiamo selezionato questi abiti che sono diciamo 170 circa, suddivisi in queste quattro stanze che potrete visitare, in cui ogni stanza affronta un argomento di confronto tra questi due grandi sistemi della moda. Si potrebbe dire che è una retrospettiva, però di fatto tutto questo si ricrea continuamente, per cui a seconda dello spazio e di come mi sento oggi, tutto questo prende altre forme, altri colori. Poi sono sempre le mie cose, sono le stesse e stanno tutte insieme nel tempo, per cui direi che è un lavoro sul tempo, soprattutto, sullo spazio, perché questo spazio è stimolante in un certo modo, questo spazio mi stimola certe cose, come tutti, ed è la prima volta che sono in un museo, per cui uno spazio museale è una cosa diversa, però nello stesso tempo mi sento molto a mio agio perché queste sono vetrine e le vetrine io le ho sempre fatte, non solo, ma ho sempre usato il mio negozio per comunicare, per cui le vetrine non sono mai state delle vetrine, sono sempre state delle performance, il negozio era aperto e si vedeva dentro tutto quello che succedeva, per cui il concetto di vetrina non c'è mai stato. Prosa, danza, musica, comicità e teatro di ricerca per un cartellone che vede nomi come Massimo Ragneri, Alessandro Gasman, Luca Zingaretti, Ari De Luca, Paolo Cevoli, Giacobazzi e Imotus. Il Teatro Novelli di Rimini ha presentato il programma della nuova stagione condiviso col Teatro degli Atti. I nuovi abbonamenti si possono sottoscrivere dalla prossima settimana. Partenza il 12 novembre con Luca De Filippo e La Grande Magia, uno dei testi meno conosciuti del grande padre, Eduardo. Segue l'inedita coppia Angela Finocchiaro e Maria Megliamonti nel brillante La Scena, scritto e diretto da Cristina Comencini. Massimo Ragneri ritorna al Novelli dal 13 al 15 dicembre con Viviani Varietà, in cui veste i panni di Raffaele Viviani in viaggio da Napoli a Buenos Aires tra canzoni e coreografie. A febbraio Gasman torna al Novelli come interprete e regista della tragedia shakespeariana Riccardo III. Dal 18 al 20 febbraio Luca Zingaretti in La Torre d'Avorio, dramma ambientato nell'immediato dopoguerra, in piena caccia ai sostenitori itleriani. Alla figura di Marco Pantani il Teatro delle Albe dedica il suo nuovo spettacolo Pantani, in scena dal 7 al 9 marzo. Harry De Luca con Gian Maria Teste e Gabriele Mirabassi propone Chisciottismi il 15 febbraio. Debutta alla regia Jacopo Gasman, il più giovane dei quattro figli di Vittorio, con lo spettacolo La Pace Perpetua. Motus il 9 e 10 novembre con Nella Tempesta. L'11 dicembre il concerto in esclusiva regionale di Imani, cantante soul francese di origini africane. Il 6 novembre torna Paolo Cevoli con il nuovo spettacolo Il Sosia di Lui, equivoci a non finire per la somiglianza di un meccanico con il Duce in vacanza in Riviera. Il giorno dopo Giuseppe Giacobazzi e il suo nuovo monologo Un po' di me, genesi di un comico. In occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne, il 24 novembre Ferita a morte di Serena Dandini con Lella Costa, Orsetta De Rossi, Giorgia Cardaci e Rita Pelusio. Spazio anche alla danza e al dialetto, la cui rassegna da quest'anno si sposta al Teatro degli Atti. Io credo che ci sia uno standard ormai raggiunto dal Teatro Novelli di qualità e di quantità che ci avvicina molto ai teatri più blasonati di noi, insomma, direi quasi ai teatri di tradizione, il che ci rassicura un po' rispetto alle prospettive che abbiamo di fronte, cioè quando noi avremo il Teatro Galli non sarà un salto nel buio. Per noi è tutto, a seguire il meteo vi ricordo come sempre che ci trovate anche sulle frequenze di Radio Icaro e sul sito newsrimini.it. Grazie per averci seguito e buona serata. Grazie per averci seguito e buona serata.